Tempo fa mi consultò Serena, una giovane donna. Si presentò con un modo di fare che poteva essere definito imperioso. Mi disse che si era sempre considerata una principessa, era cresciuta in una sorta di castello, figlia unica di genitori molto benestanti. Il suo problema consisteva in una vita povera, con sentimenti sbiaditi e una sessualità spenta. A livello del corpo Serena aveva l'addome contratto, si muoveva in modo poco flessibile, la sua sessualità era cerebrale, molto controllata e anche stereotipata. In un sogno ricorrente si vede distesa in una barra di vetro. Ora già da questa prima immagine che Serena porta in terapia, si intuisce che la barra di vetro rappresenta il castello nel quale è prigioniera, come nella favola della bella addormentata che attende un salvatore. Serena non sa cos'è la vita, è rigida come la sua barra, non osa liberare i suoi sentimenti, ha paura di viverli e li reprime nel suo addome contratto. Li contiene, così come limita la sua respirazione che risulta appunto superficiale. I suoi sentimenti sono negati. L'emozione di Serena viene inibita da una tensione cronica dei muscoli che rende la paziente insensibile. In pratica Serena è come un soldato, è rigida nella posizione dell'attenti, è una macchina, ha i muscoli delle mascelle serrate, perché è incapace di mordere la vita e non ha appetito, non ha desiderio, è incapace di succhiare il midollo della vita, come direbbe un poeta romantico. La mancanza di entusiasmo fa essere serena, sarcastica verso gli altri. Il suo desiderio di intimità è contratto, ha un nodo alla gola che le impedisce di piangere tutta la sua rabbia e la sua tristezza. Anche le spalle sono rigide per ridurre il pericolo di una reazione aggressiva, vista anche questa come troppo pericolosa. Insomma, la vitalità di Serena risulta spenta, intorpidita, c'è poco ossigeno dentro il suo corpo, c'è poca energia. L'attività metabolica è bassa, il suo è un movimento stereotipato, la sessualità è meccanica, è troppo razionale, senza poesia e senza slancio. Serena sembra una statua e infatti nei suoi sogni compaiono figure angeliche, attrici che recitano ruoli prevedibili, statue ricoperte di polvere, case abbandonate, strade in disuso, compaiono persino cantine piene di ragnatele. Così è il corpo di Serena e così è la sua anima. Immobile, spenta, la sua infelicità è surgelata. Quando Serena si guarda allo specchio è ancora più inespressiva, le sue labbra si stringono e si appiattiscono, dandole un'aria crudele, allo sguardo perso, sembra rapita ed assente. Intuisco che non posso ancora mostrarle il suo vero problema, la devo preparare ad accogliere una realtà ancora troppo dolorosa per lei. Serena nega se stessa. Eppure c'è stato un tempo in cui sapeva e vedeva un tempo prima della negazione. Con l'ipnosi regressiva Serena ritrova un'immagine antica sepolta nella sua mente. L'immagine di una bambina che urla la sua rabbia in un momento estremamente doloroso. Serena avverte chiaramente quel ricordo e le sensazioni violente e l'urlo prepotente che vuole esprimere. Nei sogni compare un vento insistente e forte. La natura si ribella, le sue forze si risvegliano e nell'immagine della bara compare una crepa dalla quale filtra una musica dolce. Serena ha i brividi nel raccontare i nuovi sogni che fa. Non riesce neanche a stare seduta, si deve alzare, si deve muovere. Anche il suo tono di voce inizia a cambiare, diventa più profondo e meno stridulo. È pronta a dare sfogo alle sue emozioni e per la prima volta può vedere l'orrore della sua infanzia perché non riesce più a fingere che sia stato un periodo felice. Ragioniamo insieme sulla sua esigenza di manipolare gli uomini, di controllarli e di limitare così la paura di essere sopraffatta dai sentimenti. Serena non sa ancora entrare in relazione con questo magma informe. Ha paura della sua dimensione interiore perché è ricca di sentimenti contrastanti e di valori morali che non riconosce come propri. Da un lato vorrebbe innamorarsi ma allo stesso tempo teme di essere ferita. Così si sente il mondo come ostile e diventa indifferente agli altri. Ma questo è un prezzo troppo alto da pagare. Serena ha paura di se stessa, ha paura di rapportarsi con la propria ombra. Mi confessa che ha sempre manipolato gli uomini. La strumentalizzazione degli altri è il suo stile insieme alla convinzione di essere una persona indegna d'amore e di fiducia. In effetti è lei stessa a non fidarsi di se stessa. L'illusione di controllare gli altri rappresenta per lei un tentativo onnipotente di estorcere l'amore che non ha avuto da bambina. Intanto, come dicevo, una musica dolce penetra nella bara di Serena. E' la terapia stessa che crea una realtà carica di investimento affettivo. Siamo vicini ad una svolta. Il mio intento è quello di restituire a Serena i suoi vissuti di vuoto e di distruzione in maniera che li possa elaborare. Per fare questo cerco di creare un rapporto empatico nel quale tutta la sofferenza di Serena possa emergere liberamente. Serena inizia a permettermi di entrare nel suo mondo chiedendomi inconsciamente di dare realtà alle sue fantasie. Non sa ancora attingere l'energia intrappolata nelle immagini e nei ricordi che pian piano emergono. E questo concetto appare anche nei sogni, nei quali si muove a fatica, un po' come la sua coscienza che è ancora limitata. C'è la paura di restare sola, la paura di non essere degna di amore e di essere abbandonata. E' importante capire la profondità di questa solitudine che conduce la paziente alla rinuncia e al sacrificio dei suoi stessi desideri che sono oscuri e questa oscurità si è trasformata in delusione, in rabbia, in odio verso tutti, ma in realtà è odio verso se stessa, in quanto persona incapace di riconoscere e affermare il suo desiderio. Invito Serena a raccontarmi il suo odio in tutte le sue forme. E' un odio che si estende a macchia d'olio su tutto. In realtà ciò che odia sono i suoi ricordi, perché le parlano di una marionetta nelle mani dei genitori. Serena ha vissuto in funzione dei desideri degli altri e oggi si sta automanipolando, nega se stessa e sottrae ricchezza alla sua stessa vita. Lo fa per paura. Dunque la miseria che vede in giro la turba perché c'è qualcosa nel suo cuore che è fatto della stessa sostanza. Vive una vita povera. Questo è lo strazio del suo silenzio interiore che vorrebbe gridare tutte le parole non dette, che rischiano di soffocarla, in un senso di colpa che nasce per non poter fare la cosa giusta. La cosa giusta sarebbe quella di coltivare il suo desiderio e non quello degli altri. Il nodo della sua domanda è questo. Possiamo desiderare qualcosa senza farci del male? Le rispondo che dobbiamo allearci all'inconscio e tradurre le sue metafore. Dobbiamo tessere relazioni con l'inconscio per accostarci al magma incandescente nel quale passato e futuro convergono creando nuove visioni. Questa è la direzione della terapia. Questa è la voce dell'anima che ci rende indistruttibili. L'anima è il nostro fuoco, la nostra ricchezza psicologica. D'altra parte la sofferenza di Serena si lega soprattutto al mondo delle relazioni e a come lei vede gli altri. Raccontandomi le sue relazioni passate mi accorgo che Serena conosce poco la grammatica dell'amore, cioè quel linguaggio particolare che ci permette di capire e dare senso ai gesti e a tutta una serie di messaggi e di segnali che due persone si inviano. Naturalmente questa mancanza di capacità interpretativa ha delle ragioni psicologiche ben profonde sulle quali iniziamo a lavorare. E allora iniziamo a capire che la forza del sentimento è proprio ciò che dà un senso nuovo agli accadimenti del passato. Serena inizia a guardare la sua vita con i sentimenti e riconosce un mondo fatto di contraddizioni. Scopre la sua disperazione e nello stesso tempo sente la necessità di cambiare le cose. Capisce che può cambiare la sua vita. Inizia a lavorare sull'armatura caratteriale di Serena con dei opportuni esercizi di bioenergetica. Così la sua tensione inizia a sciogliersi e di conseguenza inizia a percepire maggiormente se stessa. Appare meno contratta e l'energia che prima era bloccata come emozione pericolosa inizia a scorrere consentendole di rivivere le emozioni intrappolate nelle tensioni. Le emozioni rimosse affiorano. Le elaboriamo insieme e quando riusciamo a dar loro un significato nuovo il corpo di Serena si libera dalle tensioni e l'energia intrappolata nei muscoli contratti riprende a circolare. Finalmente Serena può entrare in contatto con quelle parti profonde di sé e appare più rilassata. La tensione muscolare è stata scaricata e tutti i fluidi vitali riprendono a circolare più liberamente. Serena è ora in contatto con il suo corpo e le sue emozioni. Così l'iniziale senso di alienazione svanisce e compaiono i sospiri, i gemiti, le sensazioni che via via si sviluppano nel corpo. Insomma Serena inizia a convivere con la gioia, con la rabbia senza farsi travolgere dalle emozioni. Il mio intento è quello di creare consapevolezza e contenimento, il che implica non avere paura dei sentimenti e rendere la paziente più capace di osservare le sue emozioni senza giudicarle. A questo punto può permettersi di piangere e anche di urlare e questo è uno dei modi più efficaci di liberare le sue emozioni bloccate incrementando anche la funzione respiratoria. La tensione infatti è la controparte fisica dell'inibizione psicologica. Ma le tensioni non sono fenomeni isolati, sono intrecciate in un insieme che determina l'atteggiamento caratteriale dell'individuo. Serena deve diventare consapevole di questo atteggiamento e inoltre deve scoprire le origini della sua inibizione. Solo così il conflitto inconscio che ha prodotto la tensione sarà risolto. Lavoriamo sul conflitto inconscio ed emerge come Serena abbia sacrificato i suoi desideri in favore dei desideri dei genitori. Da questo sacrificio è nata la sua aggressività passiva che ha alimentato tutta una gamma di comportamenti manipolatori al fine di eludere la presa di coscienza. Perciò la sua difesa ha lo scopo di de-responsabilizzarla. Serena inizia a mettere a fuoco questa contraddizione, inizia a fidarsi di me per svelare la sua verità inconscia che rappresenta quel desiderio autentico che stiamo cercando. Questa sua nuova disposizione interna le offre il privilegio di vedere nel sottosuolo della sua anima e qui cosa succede? Scopre l'erotismo. Anche i sogni iniziano a lasciare sensazioni impalpabili ma travolgenti. Compaiono simboli di fecondazione e c'è un'energia nuova che seduce la sognatrice perché si alimenta di ciò che accade in lei, della sua interiorità e corrisponde al desiderio di essere posseduta e vivificata. Il simbolismo onirico genera un impulso che dall'immagine conduce alla sua incarnazione. Serena è ora pronta all'incontro reale con l'altro. D'ora in poi tutto è destinato a mutare soprattutto la valenza dei rapporti con le persone. E così l'iniziale vissuto di solitudine si trasforma in un progetto di rinascita. Bene, come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube dove troverete vari argomenti di psicologia dal narcisismo alla dipendenza affettiva, dalla manipolazione all'ansia, agli attacchi di panico, video su come realizzare voi stessi e come uscire dalla depressione, su come interpretare i vostri sogni e comprendere meglio voi stessi e gli altri. Se vi iscrivete al canale youtube verrete informati sulla pubblicazione dei video. Potete trovarmi anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho creato una pagina chiamata la mia psicologia. In entrambi ogni posto è pubblico quindi non serve chiedermi l'amicizia. Inoltre ho un sito che è www.robertoruga.it dove troverete esercizi di rilassamento, fantasie guidate, pubblicazioni tra cui un libro. Infine vi informo che faccio consulenze psicologiche con la videochiamata su skype, la videochiamata su whatsapp e consulenze telefoniche per cui potete contattarmi al numero che compare sotto nella descrizione del video oppure potete iscrivermi a r.ruga-virgilio.it. Buona giornata a tutti e bocca al lupo!